zenetto tattico croato ex guerra indipendenza 1991 92 costruito interamente in tessuto woodland tessuto doppio molto resistente ha due fettucce anteriori che si chiudono con questi moschettoni in plastica alla sua base ha due fettucce con fibbie in polimero nero regolabili per poncio te lo tenda eventuali altri materiali ai suoi lati ha due taschine chiuse da dentro molto capienti sul retro troviamo un maniglione di trasporto gli spallacci regolabili tramite fibbie in materiale plastico agganciate con dei moschettoni metallici il dorso imbottito anti sudore ovviamente sendo materiale naturale del cotone ha una bella imbottitura all'interno abbiamo fatto una piccola prova abbiamo inserito una due tre bottiglie da un litro e mezzo vanno dentro agevolmente l'interno è interamente vuoto non ha tasche né taschina aggiuntive solo il davanti a questa tasca per tutta la sua larghezza